Sul genodrom non ci hanno molto spiegato i rischi. Dalla lastra si sono accorti che avevo una frattura scomposta e quindi andava operata. Mi hanno messo una placca e sei chiodi all'interno del piede che andranno rimosse tra circa sei mesi e un anno, quindi dovrò subire un altro intervento. Le conseguenze sono che attualmente ancora non cammino. Durante il gioco del genodrom purtroppo c'è stato questo incidente che su questa discesa, scendendola, purtroppo mi si è proprio girato il piede. Io ho sentito proprio il rumore dell'osso spezzarsi. Mi sono accorta subito che era rotto, sia dal rumore sia dal dolore che ovviamente è stato atroce. Mi hanno chiesto se volevo partecipare alla prima puntata e che la categoria sarebbe stata chic contro shock. Ho accettato. Non è che ti dicono comunque i rischi, lo sappiamo magari facendo quel gioco non avrei mai pensato sinceramente che potesse accadere una cosa del genere. Quindi uno non ci pensa sinceramente più di tanto a questi rischi. Questo è il genodrom e qui era ancora illesa. Eccolo. Non mi hanno inquadrato il piede ma si è proprio girato. Vedi il terreno sopra per terra era solido. Ecco fatto, questa è andata. Questa è spezzata, il pieperone, la caviglia. Però se fai caso anche agli altri concorrenti il piede non lo mettono benissimo quando scendono, soprattutto l'ultimo. Vedi era proprio un'inclinazione pericolosa. Loro hanno un'assicurazione e spero insomma che vada tutto bene. Ora non so bene come funzionerà perché ancora è presto. Io ho ancora la mia diagnosi, la mia prognosi è lunga, quindi alla fine della prognosi saprò sicuramente di più. Dalla lastra si sono accorti che avevo una frattura scomposta e quindi andava operata. Mi hanno messo una placca e sei chiodi all'interno del piede che andranno rimosse tra circa sei mesi, un anno. Quindi dovrò subire un altro intervento. Le conseguenze sono che attualmente ancora non cammino, quindi devo deambulare o sulla sedia a rotelle o sulle stampelle, che però non è facile. Ci hanno fatto firmare vari moduli, però il modulo che c'erano spiegate più le eventuali problematiche era sulla prova di coraggio. Sul genotrom non ci hanno molto spiegato i rischi. È pericoloso perché magari uno lo fa anche non con coscienza, perché sta lì per divertirsi, come è successo a me. Quindi non parte con la paura di farsi male. Però sì, sono comunque pericolosi e c'è l'alto rischio di farsi male. Quindi non so se vale la pena per far ridere che succeda tutto questo. Grazie.